So, so quello scioppone, ma di Camilla ancora non ce n'è una bellina. Poi puoi riportarmi anche perché non ho la maestria sul personaggio. Sì, nel senso che non ho, come si dice, una maestria 5, 6, 7, no, sì. Benvenuti nella landa degli evocatori. No. Quattro maestria ce l'hai. ma sa com'è scuro la luna di sangue e invece vinceranno difficilissimo diversi Grazie a tutti. Hanno fatto il grosso, occhio. Io passo direttamente al grosso. Che cazzo fai? L'avevo votata. Sono calmo. Siamo citati. Per me che è citato. Potresti cortare. Potresti cortare. Potresti cortare. Nooo. Grazie. Fa danno fisico o magico? Sapendo che. Nooo. Nooo. Ho preso la shin. Ho detto da un nostro tornavo via. Si, si è fatto benissimo. Stunnerà. Esatto. Proprio così. Volevo saltarti in mid. Volevo saltarti in mid. Nooo. Vai. No, non l'ho presa. Perché quando ho cliccato doveva lontano e non sono stato ben dietro. C'è Ezza top? C'è Ezza stupida. Non ho potuto fare niente se non ci morivo anch'io. Dov'è messo lui? Allora in mezzo lì. Merda. Non c'è quel lato sotto. Di questo bisogna fare da te. Pusha pusha. Non l'avevo vista anche lei. Non l'avevo proprio vista. Grazie. Torno su da voi e da te eh. Volevi? Fatti quella top. Prima che fanno della top. Siete che non credo che si facciano la top con la vita che hanno. Non c'ho più nemmeno di vita. L'ho provato eh. Non ce l'ho fatta a colpillo. Cosa? Ma che non anche su due occhi? Ma che non sono anche su due occhi? mezzo sta girando a fidare da un po' a 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